Never Quite, con questo titolo sembra suggerire che a star sereni si è improduttivi. Edito da Rizzoli, è l'ultimo libro di Oscar Farinetti, guru di Italy, impero delle eccellenze dell'agroalimentare italiano nel mondo, con oltre 8.600 dipendenti e punti vendita in più di 10 nazioni. Ripercorre alcuni momenti delle straordinarie tappe imprenditoriali, a conferma delle doti di visione di un capitano d'industria che ha rischiato improprio, cercando sempre un equilibrio virtuoso tra qualità, costi d'esercizio, ricavi e ritorno d'immagine. Ecco i suoi suggerimenti ai più giovani. Intanto di non essere scoraggiati, pensate se nascevano in Siria o in Afghanistan o in Senegal, nessuno di noi decide dove nascere, sarebbero stati molto più scoraggiati. Pensare a un giovane scoraggiato mi fa un po' ridere, è nato nel paese più bello del mondo, solo delle opportunità, e quindi deve avere fiducia, credere in se stesso. Quattro mosse suggerisco, primo partenza, andare all'estero, andare all'estero un anno o due per capire il mondo. Infatti la seconda è presa di coscienza, cioè capire l'Italia e l'unica maniera per capire l'Italia è dall'estero. Dall'estero, come quando si attacca un quadro in una camera, poi ci si allontana un po' per vedere che sta bene. Poi studiare il nostro paese e poi quindi la tornanza e infine la restanza. Riprendono così al Teatro Orfeo di Taranto gli incontri con l'autore organizzati dalla banca BCC di San Marzano in collaborazione con il Festival del Libro Possibile. La cozza tarantina presidio Slow Food a marchio DOP, un'ottima idea, parola di Farinetti. Se lo merita perché è un prodotto straordinario. Oggi non ho potuto mangiarla perché siamo fuori stagione. Grazie. 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 Grazie.